è proprio un discorso di come viene gestito una saga come viene gestito un medium è molto complicato come sono molto complicati i commenti che ci stanno lasciando infatti io sono super curioso ora ci arriviamo il signor Demiolgo ci ha fatto una tesi di laurea infatti io mi ricollego proprio a questo così ci spostiamo sui due recenti, due ignorando Romulus, sui precedenti qui vabbè lo dico, Prometheus e Covenant così è più chiaro non so se era una domanda o un'affermazione però dice parlando di innovazione è stata una scelta giusta mettere un contesto filosofico sulla nascita dell'uomo e sul tema della creazione in un franchise che in quattro film aveva portato il genere slasher lo uso come domanda ah ok, allora era una domanda nello spazio io sinceramente sono uno dei pochi che ha apprezzato Prometheus e che anzi era interessato a vedere il seguito Covenant ce l'hai avuto e sinceramente mi chiedo se ha senso continuare a fare film simili al primo di struttura ovvero persone che si trovano in una nave abbandonata e c'è uno xenomorfo che cerca di ucciderli e poi ripeti di nuovo e fai una copia di Alien quindi diventa anche sulla coda una critica a Romulus immagino o una risposta nel demiurgo vai vai ti vedo convinto lanciati convinto vabbè innanzitutto di mettere la filosofia non è che è una scelta giusta o sbagliata è una scelta del creatore della saga di Ridley Scott però a lui al demiurgo che a quanto pare ha lanciato una critica penso all'ultimo vorrei dire o ricordare se non lo sa che Romulus in Romulus c'è la mano di Ridley Scott che è vero che non gli hanno fatto fare il sequel di Covenant perché penso che dovesse essere non so se lui avesse in mente tre o quattro film sarei sicuri tre erano sicuramente in progetto esatto è vero che non gli hanno fatto fare quello però Scott c'è dietro qua e secondo me la mossa è stata ricreare delle atmosfere simili ai primi come stavo dicendo prima ma se hai visto Romulus ti sarai accorto che c'è gigantesco collegamento con Prometheus e Covenant quindi io come ne parlavo all'epoca con Nefasto secondo me ci ha messo la mano anche nella scrittura o almeno avrà detto inseriteci questa cosa qua così la sceneggiatura aveva detto senti aveva fatto una correzione qualche correzione qualche piccola aggiunta ma a quanto pare significativa così ha detto se fa successo magari in maniera più o meno velata possiamo continuare anche quella storia perché per chi ha detto ma la saga sappiamo già come va a finire no noi sappiamo come va a finire la saga di replay quella sappiamo come va a finire l'universo è infinito di xenomorfici ce ne stanno tanti quindi la storia di replay sta lì e non la tocca nessuno ma parallelamente ci potrebbero essere tante cose tra cui proprio quello che ha iniziato e che a questo punto richiedeva e richiede ancora il demiurgo qua però alla fine dico se dovessero continuare e penso che saremo più o meno tutti contenti continuare dico con le idee di Prometheus e Covenant come lo faranno nel senso il pubblico come reagirà al reinserimento di certi elementi che per motivi X non avevano così tanto attecchito e vi lascio con questa domanda non avevano non avevano non avevano